Quando scegliamo di offrire un angolo di degustazione in cui proporre ai nostri ospiti cioccolato, rum, dei sigari da fumare, dobbiamo essere molto attenti alla qualità delle materie prime che scegliamo e alla professionalità con cui sappiamo dare indicazioni ai nostri ospiti su quello che stiamo offrendo loro. E' quindi fondamentale avere cura nell'allestimento, nella scelta dei rum che abbiniamo a vari tipi di cioccolato.